Sarebbe intenzionato a fare ricorso al Tribunale del Riesame l'avvocato difensore di Giovanni Vantaggiato, il reo confesso della strage al Morvillo Falcone di Brindisi, nella quale ha perso la vita la sedicenne Melissa Bassi e sono rimaste gravemente ferite altre cinque studentesse lo scorso 19 maggio. La difesa di Vantaggiato, rappresentata dall'avvocato Franco Orlando, sarebbe pronta a ricorrere all'esame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Lecce Ines Casciaro, emessa contestualmente alla convalida del fermo dell'indagato. Ed in particolare contro la conferma dell'aggravante della finalità di terrorismo relativa all'ipotesi di reato di strage in concorso, in base alla quale l'inchiesta rimane alla procura distrettuale antimafia di Lecce. Diversamente, infatti, l'inchiesta passerebbe nuovamente alla procura di Brindisi. È evidente che una condanna con l'aggravante della finalità terroristica sarebbe molto più severa rispetto alla condanna per strage senza tale finalità. Intanto Vantaggiato ha trascorso la sua terza notte in carcere, in isolamento nel braccio femminile di Borgo San Nicola a Lecce. L'uomo è sorvegliato costantemente. Dopo l'interrogatorio di garanzia delle scorse ore, sembra, secondo quanto riferisce al suo avvocato, prendere coscienza delle conseguenze del suo folle gesto. Ha manifestato la volontà di scrivere alle famiglie delle vittime, in primis a quella di Melissa Bassi, e chiedere scusa. Sembra anche preoccupato della sua di famiglia e dei suoi dipotini. Ma intanto, proprio dal carcere, l'uomo, pare, abbia tentato di mandare una lettera alla moglie. Una sorta di pizzino intercettato dagli investigatori, nel quale avrebbe scritto alla consorte di far sparire dei documenti già in mano agli inquirenti e recuperati nel deposito di benzina. L'uomo, quindi, nel suo millantato dolore e pentimento, sembrerebbe mantenere una certa lucidità. Intanto, sulle indagini, che ovviamente sono tuttora in corso, e sulla versione fornita dall'autore dell'attentato di Brindisi, interviene il ministro, Anna Maria Cancellieri, che dice chiedete ai magistrati l'importante che abbiano preso quello che ha materialmente compiuto il fatto. Dopodiché, sicuramente l'eccellente magistratura che sta lavorando darà la verità completa. Una verità che ovviamente non potrà sedare il dolore per la perdita della piccola Melissa. A lei, il prossimo 19 giugno, a un mese quindi dalla strage, la scuola Morvillo Falcone, intitolerà La palestra.